Senza ferri anteriori, primo match, senza ferri posteriori, principessa Sofia, completamente scalzi, Pandea in ronco, Pasadino M, Platino Jet, 150 metri al punto dello stacco. Penelope Lux, che è in linea con Pepita Bar, poi principessa Sofia, veloce dalla seconda fila, quindi Platino Jet è a largo perfection, si va impiegata, stila Pepita Bar, 13,7, lancio l'errore, la squalifica per Prince, De Veltre, e così al comando Pepita Bar, l'errore di piuma, leggera spin. In seconda posizione Penelope Lux, viene subito via Platino Jet, in anticipo su Pasadino M, 28,9, i primi 400 metri da parte di Pepita Bar, che davanti alle tribune è avvicinata da Platino Jet, il quale va dritto, chiede strada, spila dopo 600 metri in 43,5. In terza posizione Penelope Lux, precede principessa Sofia, a largo avanza Pasadino M, poi perfection e Pandea in ronco. Si va sulla seconda curva, i primi 800 metri, completati 58,7 da 1,13,5. Platino, Pepita e Penelope, il ritmo infernale non permette inserimenti per corsie esterne, così Pasadina si stoppa al lato di perfection, principessa Sofia invece è quarta alla corda dopo un chilometro in 1,13,5. Platino Jet in vantaggio, 2 avanti a Pepita Bar, poi Penelope Lux e principessa Sofia, ancora perfection e Pasadino M dal fondo del gruppo Predator Gad, ma si va davvero forte, sbaglia e si rimette Portos, Tommy, 14 e mezzo di fronte, 1,28, 1,2, con i quali Platino Jet si tiene in vantaggio su Pepita Bar che si avvicina. Poi Penelope Lux e principessa Sofia, si prepara Pepita, principessa che arriva, Penelope che abbozza, intanto Platino affronta in vantaggio addirittura, ma non riesce ancora a staccare, è richiesto a maggior impegno l'errore di principessa Sofia, allora Platino si mantiene l'evidenza su Pepita e Penelope Lux, sbaglia anche per la Lorgad, Platino Jet che viene a vincere, mentre per il secondo Penelope Lux in linea con Pepita Bar, poi a centropista Puma di Giri Falco che dovrebbe essere quarto avanti a primo mezzo Pasadino M, 1,58,4, 33 l'arrivo, 1,14 secco, la media al chilometro, nonostante il 16, Platino Jet con Eros Amelis che riesce a gestire al meglio il figlio di Zambesi Flash, la partenza veloce ma prudente nei primi 300 mesi, destra libera, sfida su Pepita, poi fa corsa sul suo ritmo e lunghezza, a separarlo da Penelope Lux, numero 3 che appariglia e batte probabilmente il 5 di Pepita Bar, quarto è il 10 di Puma di Giri Falco, al quinto è il 14 di dentro, attenzione Pasadino M su primo match, pertanto arrivo ufficioso della Corsa Trista Nazionale, primo è il numero 16, Platino Jet con Eros Amelis, il colore del signor Donato Tundo al secondo posto dovrebbe essere il numero 3, e la numero 3, Penelope Lux, al terzo è il 5 di Pepita Bar, pertanto 16, 3, 5 la Tres, quarto è il numero 10 di Puma di Giri Falco, 16, 3, 5, 10, quartier ufficioso, al quinto lungo i paletti dovrebbe essere il numero 14, Pasadino M che infila, primo match, pertanto arrivo ufficioso del quinte, primo è il numero 16, Platino Jet, secondo è il numero 3, Penelope Lux, terzo è il numero 5, Pepita Bar, quarto è il numero 10, Puma di Giri Falco, quinto è il numero 14, Pasadino M.